Dopo gli ultimi tragici incidenti, i sindacati chiedono a Regione Anas di mettere immediatamente in sicurezza una delle arterie più pericolose della Basilicata. Emergenza acqua nel metapontino, l'euro parlamentare del Movimento 5 Stelle per Nicola Pedicini chiede alla Commissione UE di fare chiarezza sulla discordanza dei dati di Arpab e Acquedotto Lucano. Sempre più donne alla guida di nuove imprese nel Potentino, secondo gli ultimi dati di Confcommercio. Prosegue il nostro viaggio di avvicinamento alle elezioni amministrative del 10 giugno, oggi vi presentiamo la sfida di Vaglio. Giro d'Italia, Pozzo Vivo crolla sotto i colpi di un leggendario Frum e scivola dal terzo al sesto posto, oggi le ultime salite per provare a risalire sul podio. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione dalla Basilicata. In apertura di questa edizione torniamo a occuparci di sicurezza sulle strade. Si svolgeranno domani pomeriggio i funerali di Franco Taurisano, il 45enne di Tito deceduto mercoledì scorso nell'incidente sulla potenza Melfi. Ancora da stabilire invece la data del rito funebre della 37enne di Lavello, Donatella di Vittorio, vittima di un altro scontro avvenuto sempre il 23 maggio a distanza di qualche ora. Intanto è pressing su regione Anas affinché si proceda alla messa in sicurezza dell'arteria tra le più pericolose della regione. Facciamo il punto con Mariolina Notargiacomo. I due recenti decessi ne sono la triste conferma non si può più attendere sulla potenza Melfi. Necessitano interventi urgenti di messa in sicurezza. Quelli già pianificati fanno registrare gravi ritardi e non sembrano rispondere appieno all'emergenza viabilità. Due incidenti mortali nel giro di poche ore hanno gettato nel pieno sconforto il paese di Tito dove domani pomeriggio si terranno i funerali di Franco Taurisano, 45 anni, coniugato. L'ultimo saluto nella chiesa del convento di Sant'Antonio alle 15.30. Ancora da stabilire la data del rito funebre della 37enne di Lavello, Donatella di Vittorio, per la quale si attende che venga eseguita l'autopsia già effettuata su Taurisano. Intanto è pressing su Regione Anas affinché si proceda alla messa in sicurezza dell'arteria. Tra le più pericolose della Regione, cantieri che in qualche modo erano partiti almeno per quanto attiene la realizzazione di corsie specializzate lì dove è possibile intervenire, stoppati poi di recente per le solite questioni legate ai cambi d'appalto. Perplessità sulla progettazione dei lavori è stata espressa dai sindacati. Anas sembra ormai intenzionata a ricorrere alle corsie specializzate e contestualmente a bocciare la rimodulazione del tragitto a quattro corsie in virtù dei volumi del traffico giornaliero medio che ne scoraggerebbero l'attuazione. Una posizione ferma, quella dell'ente nazionale strade che sembra ignorare le prestanti sollecitazioni. Nessun passo indietro dunque rispetto ai programmi di Anas, nonostante gli incidenti ci consegnino numeri da bollettino di guerra. Quello che è possibile fare su questa arteria, ce l'aveva detto il capo compartimento viabilità per la Basilicata, Francesco Caporasso, durante un'intervista è sottolineato in modo fermo anche a microfoni spenti. Noi dobbiamo distinguere che sono interessati da valori del traffico giornaliero medio diversi. Preciso che i valori del traffico giornaliero medio vengono monitorati da Anas attraverso strumenti elettronici continui. Noi abbiamo i primi chilometri da Potenza alla zona di San Nicola che ha un traffico più elevato e il secondo tratto fino al termine a stradale dove il traffico è notevolmente inferiore. In termini di verifica della capacità dell'infrastruttura e del livello di servizio, l'infrastruttura è assolutamente adeguata per il traffico esistente, cioè non vi era fatti specie prevista per giustificare un investimento di centiliei e centiliei di milioni di euro in tempi biblici per poter realizzare una trasformazione di infrastruttura tipo da extraurbana secondaria a extraurbana digitale. Vi faccio capire che l'exturbana principale è la 106 omica. Per esempio nei primi 7 chilometri dove anche il TGM è anche più alto, dove ci sono tutti i cadotti e c'è una configurazione planimetrica molto complessa, non si può inserire la corsia specializzata perché bisognerebbe fare opere faraoniche in viadotto, costi sostenibili ma anche tecnicamente difficilmente realizzabili. Bisogna fare azioni di prevenzione, di questo abbiamo fatto una serie di valutazioni con la Polizia Stradale in Prefettura e anche con la Regione. Per parlare dell'emergenza acqua nel Metapontino, gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle tra cui Lucano Pedicini hanno chiesto alla Commissione UE di fare chiarezza sulla discordanza dei dati di Acquedotto Lucano ed Arpab. Sentiamo. Gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo e Dario Tamburrano hanno presentato un'interrogazione alla Commissione europea sull'emergenza acqua potabile nei comuni del Metapontino. I tre portavoci pentastellati hanno messo in evidenza che due direttive europee stabiliscono che è responsabilità degli stati membri controllare i rischi per la salute umana nei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile e che i laboratori per l'analisi dei parametri dovrebbero operare secondo procedure approvate internazionalmente e usare metodi di analisi convalidati. In particolare Pedicini, Castaldo e Tamburrano hanno chiesto alla Commissione di intervenire su tre aspetti. Fare chiarezza sulla discordanza delle analisi delle acque fornite rispettivamente dalle società pubbliche Acquedotto Lucano e dell'Arpab. Intervenire sulla semplificazione dell'accesso del pubblico a informazioni chiare circa la qualità e l'approvvigionamento di acqua potabile nei comuni del Metapontino. Fornire dati aggiornati sulle pratiche di disinfestazione delle acque e sul livello di concentrazione di trialometani nell'acqua potabile in Italia e negli altri stati membri. Nella prima parte dell'interrogazione i tre eurodeputati del Movimento 5 Stelle hanno spiegato alla Commissione che a fine aprile e a metà maggio alcuni comuni della Basilicata, Policoro, Novasiris, Canzano Ionico, Bernalda Metaponto, Lido, Monte Scaglioso avevano disposto il divieto di uso e consumo dell'acqua a scopo potabile e per la preparazione dei cibi a causa del superamento dei parametri di trialometani. Tre persone sono state denunciate dai carabinieri forestali a Bernalda con l'accusa di aver abbandonato lungo la sponda di un canale naturale rifiuti derivanti da lavori di ristrutturazione edili. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione in località a fronte Lama e hanno sorpreso due operai romeni dipendenti di una ditta di Lamezia Terme mentre stavano scaricando abusivamente decine di mattoni forati. Insieme a loro è stato denunciato anche il titolare della ditta calabrese per la quale avevano realizzato i lavori in un fabbricato della città ionica. L'area è stata posta sotto sequestro in vista della bonifica. E cambiamo pagina, sempre più donne alla guida di aziende nel Potentino dove le quote rosa giovanili toccano quota 1142. Vediamo. Le quote rosa tra le imprese guidate da giovani sono una realtà anche in provincia di Potenza dove le aziende giovanili femminili iscritte alla Camera di Commercio del Capoluogo al 31 marzo scorso sono 1142 con un tasso di femminilizzazione pari al 30,28%. A riferirlo è Terziario Donna Confcommercio Potenza che ha rielaborato su scala provinciale e regionale i dati diffusi da Union Camere Nazionale che vede la provincia di Potenza al di sopra della media nazionale. Il 29% delle attività di under 35 ha infatti una donna al comando. Il dato regionale di imprese giovanili femminili in Basilicata sale a 1825 sul totale di 6.018 imprese giovanili registrate al primo trimestre dell'anno agli albi delle due Camere di Commercio. Per Terziario Donna Confcommercio Potenza rispetto al passato c'è un cambio culturale importante da parte delle donne che sono più propense a dedicarsi al business. La spinta deriva inoltre dal fatto che con la crisi molte donne che magari avevano un lavoro precario lo hanno perso. Di qui la necessità di reinventarsi attraverso l'autoimpiego in attività che spaziano dal commercio ai servizi alle persone e alle imprese o legate alla sostenibilità a internet o ad attività innovative. Uno scenario positivo dunque anche se le aziende rosa restano ancora una minoranza e devono fronteggiare diversi ostacoli, in primis l'accesso al credito. Spesso infatti le donne non hanno un passato d'azienda ed è difficilissimo per loro ottenere dei finanziamenti come rilevano anche i dati dell'Osservatorio Nazionale sul credito per le piccole e medie imprese. Più sostegno all'imprenditoria femminile anche in fase di start-up, un accesso al credito più adeguato alle specificità dell'impresa in rosa sono alcune delle richieste prioritarie di Terziario Donna, richieste che partono forti anche dai dati dell'Osservatorio Censis sull'imprenditoria femminile che resiste alla crisi meglio di quella maschile, trend particolarmente consistente nel settore del commercio. Il sistema dei controlli agroalimentari in Basilicata funziona, è quanto emerso nel corso di un tavolo tecnico che si è svolto ieri a Potenza, organizzato dalla regione Basilicata per dare una prima risposta all'allarme mediaticamente suscitato nelle ultime settimane. La riunione è stata convocata per condividere e valutare con gli organismi di controllo la qualità degli alimenti agroalimentari prodotti nelle vicinanze degli impianti di estrazione petrolifera. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti degli enti e degli amministratori locali, delle associazioni degli agricoltori e degli allevatori, delle amministrazioni comunali dell'area, degli istituti sanitari di ricerca e gli assessori regionali all'ambiente e all'agricoltura, Francesco Pietrantuono e Luca Abraia. Ed ora diamo la linea per qualche secondo alla pubblicità. design e restyling di interni di Vito Coviello, pitturazioni, carte da parati, controsoffittature, pareti acustiche, coibentazioni, rivestimenti a cappotto, guaine bituminose. Design e restyling di interni di Vito Coviello a Lago Pesola e Potenza. Per informazioni 340-63-70-636, Vito Coviello, chiocciolahotmail.it Di Traverso torna con un nuovo progetto che porterà la realtà lucana tutta all'interno degli studi della nuova TV. Una nuova sfida in cui non mancherà l'analisi, l'approfondimento e l'inchiesta giornalistica, con un impatto immediato grazie al confronto con gli ospiti che interverranno. Caffè di Traverso dal martedì al venerdì alle 10.30 e alle 15.30 negli studi della nuova TV. E naturalmente non mancherà il caffè. Prosegue il nostro viaggio di avvicinamento alle prossime elezioni amministrative del 10 giugno. Oggi andiamo a Baglio, alle porte di Potenza, dove una cosa è certa, il sindaco sarà un volto nuovo. Vediamo. In campo per centrare un traguardo storico. Chiunque si aggiudicherà la sfida del prossimo 10 giugno a Baglio indosserà per la prima volta la fascia tricolore. Nel comune alle porte del capoluogo di regione, Giancarlo Tamburrino, sindaco uscente, ha deciso di compiere un passo indietro, aprendo di fatto una nuova stagione amministrativa. Qui il confronto sarà a due, tra l'ingegnere Antonio Senise, cinquantenne in corsa alle ultime elezioni comunali di potenza come candidato nella lista socialisti e democratici, e il commercialista Francesco Pietrantuono, 44enne al debutto assoluto. In rinascita continua con Antonio Senise, sono confluiti il vice sindaco e gli assessori uscenti Mancazzo e Matteo, oltre al consigliere Castellucci. Squadra nuova sull'altro versante. Baglio in movimento fonda il suo progetto sul rinnovamento e sulla partecipazione. Rispettata la quota del 40% di candidate di genere nella lista rinascita continua, dove figurano Angela Accetta, Domenica Danzi, Antonella Pugliese e Donatina Santarsiero. Sono due le donne in campo con Santo Pietro, si tratta di Rocchina Bisaccia e Maria Cortese. Ed ora parliamo di risorse ai comuni costieri. Il presidente della giunta regionale, Marcello Pittella ha incontrato ieri a Potenza, nella sala Verrastro del Palazzo della Giunta, i sindaci e gli amministratori dei sette comuni riveraschi-lucani per dare avvio alla procedura negoziata per la selezione ed ammissione a finanziamento di operazioni volte alla fruizione integrata di risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche. Il programma mette a disposizione 7 milioni di euro diversi, gli interventi che potranno essere realizzati grazie all'azione rivolta ai comuni costieri. Il presidente Pittella ha invitato i comuni del Metapontino a presentare un progetto organico ed integrato ed ha auspicato un dialogo rafforzato tra le due fasce costiere, ionica e tirrenica. Il prossimo step sarà la presentazione all'autorità di gestione, in sede negoziale entro il 15 giugno, della relazione illustrativo-programmatica della proposta delle schede di operazione per l'accesso ai finanziamenti. E torniamo a parlare della centrale del Mercure. Sono giorni di attesa prima del risponso del Consiglio di Stato fissato per fine mese. Intanto i sindaci di Rotonda e Vigianello lunedì incontreranno ambientalisti e cittadini. Sentiamo Alessandro Panuccio. Tornerà ribalta la questione centrale del Mercure. Nelle ultime ore l'Assemblea degli azionisti Enel di Roma, dove il sindaco di Vigianello Rizzo e il dottor Laghi per la fondazione di Banca Etica hanno riproposto tutti i loro dubbi in tema di ambiente, salute, viabilità e legalità. E intanto lunedì prossimo alle 10 presso la Casa Comunale di Rotonda ha fissato un incontro per discutere dell'impianto. A seguito di una richiesta pervenuta entrambi i comuni dall'avvocato Bonafine, difensore dei due comuni, che chiedeva un incontro per discutere il ricorso da lui prodotto in vista della discussione di fronte ai giudici del Consiglio di Stato del 31 maggio, i sindaci di Rotonda e Vigianello, Rocco Bruno e Antonio Rizzo, hanno risposto positivamente. I comuni di Vigianello e Rotonda, come ben noto, si oppongono al funzionamento della centrale a biomasse di Laino Borgo e prima dell'appuntamento del 31 maggio decidono di incontrarsi per discuterne. La nota che fissa l'incontro è indirizzata ai consiglieri comunali, all'Associazione Radar, al Forum Stefano Gioia, all'avvocato Bonafine e ai due sindaci. Nei giorni precedenti erano pervenute e comuni anche richieste di Consiglio Comunale Congiunto da parte di componenti dell'Associazione Radar e del Movimento 5 Stelle. Inoltre il 18 maggio scorso al Consiglio Comunale di Vigianello anche l'Associazione Radar ha avuto un confronto col Sindaco di Vigianello e il Consiglio li riunitosi. Ma all'incontro pubblico del 28 maggio sicuramente si parlerà anche delle problematiche legate alla viabilità nella Valle del Mercure per l'intenso traffico veicolare e di altre tematiche locali. Ed ora andiamo a Bella dove ieri sera è stato presentato l'ultimo lavoro di scrittura realizzato dai docenti Stefania Ciriello e Mario Priore sul tema dello scontro generazionale del servizio di Michelangelo Russo. Una lettura lucida e autentica del mondo adolescenziale e delle dinamiche che guidano la comunicazione tra i giovani e gli adulti. Orientamenti e inclinazioni divergenti che si traducono in uno scontro generazionale quotidiano trasposti su carta dai docenti Stefania Ciriello e Mario Priore. Il libro Generazione 4.0 scritto a quattro mani si articola in venti dialoghi che mettono a confronto i punti di vista dei ragazzi e degli adulti su svariati temi quali abbigliamento, alimentazione, studio, prof, cellulari, alcol, amicizie, capelli, dormite, fidanzate, fidanzati, fumo, musica, social, trucco e uscite. Pubblicato già l'anno scorso, il testo è stato presentato all'interno della Bibliomediateca dell'Istituto Comprensivo di Bella. Un testo che nasce da circostanze particolari e differenti, ma in primo luogo dal contatto diretto che i due professori instaurano con i ragazzi negli ambienti scolastici. La presentazione è stata arrecchita da interventi musicali e dall'interpretazione di alcune tipiche rappresentazioni conflittuali a cura degli alunni e dei propri genitori. tra ilarità e momenti di riflessione, ma è un libro che mette in luce anche le innumerevoli forme di comunicazione di cui oggi i giovani dispongono. I ragazzi oggi comunicano in una maniera molto diversa da come comunicavamo noi, hanno una comunicazione molto veloce e spesso dobbiamo interpretare anche un messaggio lasciato sullo schermo di un cellulare piuttosto che un disegno, perché è il loro modo di comunicare, quindi una comunicazione che non avviene più esclusivamente attraverso la forma verbale, anche perché certe volte i ragazzi non amano raccontare direttamente, però lasciano testimonianze del loro vissuto, come dicevo prima, attraverso un'immagine, attraverso anche la parola scritta. In questo weekend anche in Basilicata è tempo di cantine aperte, dopo il successo del Vinitali si punta a rilanciare l'enoturismo, come spiega l'assessore regionale Braia, portando gli appassionati del buon bere a visitare la nostra terra e le nostre eccellenze. Oggi e domani prendono avvio le attività del Movimento Turismo del Vino, con una manifestazione che si svolge in tutte le regioni d'Italia. In Basilicata coinvolte sia le cantine nel Vulture, ma anche la Matera Doc. Queste le aziende visitabili, la Viti Vinicola Battifarano di Nova Siri, cantina Il Passo di Barile, cantine del Notaio, Casa Vinicola Martino e cantine Strapellum di Rionero e azienda agricola Elena Fucci di Barile. Domani si aggiungeranno anche le cantine Terra dei Re di Rionero, cantina di Venosa e cantine Re Manfredi, sempre di Venosa. E siamo alla pagina sportiva con il ciclismo. Ieri tappa da leggenda al Giro d'Italia con il britannico Froome che va in rosa ribaltando la classifica. Il Lucano Pozzovivo invece va in crisi e perde il terzo posto. Oggi le ultime salite per riprovare a salire sul podio. Sentiamo Luigi Santopietro. Chris Froome riscrive la storia del Giro Edizione 101 e con un'azione che resterà nelle pagine più belle della Corsa Rosa, rivolta come un calzino alla classifica generale, dal quarto al primo posto dopo una fuga solitaria di 80 chilometri. Yates che sparisce dalla top 10 è podio rivoluzionato. Infatti se Tom Dumoulin resiste al secondo posto è proprio Domenico Pozzovivo uno degli sconfitti del secondo tappone alpino con il Lucano che alla prima vera giornata difficile del suo giro paga un dazio pesantissimo. Undicesimo al traguardo, oltre 8 minuti dal campione britannico ma soprattutto 5 minuti e zobeccati dai vari Pinot, Carapazza e Lopez che lo scavaccano in gradatoria. Il bilancio in rosso con lo scalatore montalbanese che passa dal terzo al sesto posto è il sogno del primo podio in carriera in un grande giro che rischia di sgretolarsi. Il primo passo dell'azione leggendaria di Froome della debacle di Pozzovivo si compie sul colle delle finestre. Cima coppia e salita allo stesso tempo splendida e spietata. L'azione della Skyman da subito in crisi la maglia rosa Yates ma per passare dei chilometri anche il leader lucano della Bahrain Merida che senza un compagno al fianco va in difficoltà e non riesce più a rientrare sul gruppetto formato da Dumoulin, Pinot, Carapazza, Lopez e Reichenbach col divario che si dilata sia in discesa sia nella salita verso Sestriere con lo jaffro finale a completare l'opera. Pozzovivo fuori dal podio a favore del francese Pinot ha una sola tappa per provare a centrare il sogno, quella di oggi da Susa Cervina con le ultime salite che sanciranno i tre gladiatori che saliranno sul podio del giro sullo sfondo di un colosseo bardato di rosa. Ed è tutto per questa edizione, grazie per la cortesia e attenzione a tutti voi, un buon proseguimento di giornata. Amici Trevi Meteo, bentornato a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato. che vede un aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, quindi a tutti gli effetti tempo bello e situazione quasi estiva. Se guardiamo le nubi previste sul nostro paese saranno quasi del tutto assenti, solo qualche annuvolamento potrà interessare le zone montuose. A inizio giornata un po' di umidità si farà vedere e sentire sulle regioni di nord-ovest, specie in Liguria, ma poi in giornata le zone di sereno prevarranno un po' ovunque. Come precipitazioni vi segnalo solo la possibilità di qualche occasionale temporale di calore sull'Appennino centrale nelle ore pomeridiane, come vedremo tra poco, ecco, e poi sulla fascia alpina e prealpina. Per il resto, tempo bello e clima asciutto con appunto una giornata di sabato estiva in tutta Italia, prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso, temporali dicevamo nel pomeriggio su alpi prealpi e sull'Appennino centrale e soprattutto temperature che iniziano a toccare i primi 30 gradi dell'anno. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Grazie a tutti.